E' un problema con un altro appartamento. Sto in un bar, qua dietro piazza una mona. La mandarino, che stai a fare? Ma che non vuoi vedere che è monaco vero questo? Non lo facciamo un vero. Praticamente questi qua dicono che loro sono bramini e non portano le valigie. Li devo portare io. Sono due uomini. Fatte da 10 euro, no? Ma lei ci sta qui, guarda, ti giuro. Ehm, sorry. Ehm, Jesus will do the check in, ok? Lusa, la cartigianica io non la porto. Yeah, please, be a pop, please. Grazie. Senti, ma ti pare che non trovo la casa proprio io, sarebbe il colpo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.